Musica Ciao a tutti, Regione Lombardia entro marzo aprile dell'anno prossimo deve redigere il programma di sviluppo rurale dal 2014 al 2020. Il programma di sviluppo rurale dà le indicazioni per lo sviluppo dell'agricoltura lombarda nei prossimi sette anni, quindi è un documento estremamente importante. Per questo, come gruppo consigliare, abbiamo organizzato una serie di incontri aperti a tutti gli agricoltori e a tutti gli allevatori. Sono otto incontri nelle province lombarde. Noi andiamo oltre. Vogliamo sentire agricoltori e allevatori senza passare dalle associazioni di categoria e sentire i loro contributi per il programma di sviluppo rurale dei prossimi sette anni. Questo è un inizio di democrazia diretta, uno dei nostri principi cardine. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.